Incidenza dei positivi al 4,7%. In Sicilia, tendenza all'ammiglioramento degli indicatori della pandemia. Fondi di sostegno al settore pesca dall'assessorato regionale. L'intervento dell'assessore Scilla. Giuliana Miciche. Sono 878 nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 18.682 tamponi processati. L'incidenza è al 4,7%. La regione, dopo un giorno di tregua, risale al primo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 22.720 con un decremento di 896 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 1.754. Le vittime sono state 20 per un totale dei decessi a 6.657. I ricoverati ordinari sono 796, 34 in meno e quelli in terapia intensiva sono 99, uno in più. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 129, Catania 295, Messina 169, Siracusa 107, Ragusa 53, Trapani 53, Caltanissetta 23, Agrigento 29 ed Enna 20. E ad oggi, venerdì, giorno riservato settimanalmente alla riunione della cabina di regia nazionale per stabilire il colore delle regioni, si registra, in base al report della Fondazione Gimbe, una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, che sono 523. E ricorre anche una diminuzione dei nuovi casi, meno 25,8% rispetto alla settimana precedente. Ancora sopra soglia di saturazione sono i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 60,8%, media Italia 68%, a cui aggiungere un ulteriore 6,6% solo con prima dose, media Italia 6,1%. La popolazione over 50, che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, è pari al 16,8%, media Italia 11,1%. E la popolazione 12-19 anni senza vaccino è pari al 41,3%, media Italia 33,7%. E per incentivare la vaccinazione nelle scuole, verso la conclusione di settembre, come previsto dall'ultima circolare firmata dalla Gallerazza, sarà ammesso l'accesso delle usca scolastiche negli istituti che ne faranno richiesta, per promuovere le vaccinazioni sia tra gli studenti della fascia 12-19 anni, sia tra gli operatori scolastici non ancora immunizzati. Nel frattempo, nell'ambito degli indennizi per i danni provocati dall'emergenza sanitaria, l'assessore regionale alle politiche agricole, Antonio Scilla, annuncia buone nuove per le circa 2.000 imprese siciliane della pesca e quasi 5.000 componenti dei loro equipaggi che attendono i 15 milioni di euro di aiuti dalla regione per far fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria. Infatti, oggi è in pubblicazione la graduatoria provvisoria dell'avviso dello scorso mese di novembre a valere sul Fondo di Solidarietà della Pesca e dell'Aquacoltura, istituito dall'attuale governo regionale. Si avvia dunque a conclusione, sottolinea Scilla, la fase di acquisizione delle domande di sostegno economico e presto provvederemo all'erogazione degli aiuti a quanti ne hanno fatto richiesta. Il governo Mosomè ci porta così a compimento un'altra azione volta al sostegno di un settore ritenuto centrale per l'intera economia regionale. Ecco, quanti temi importanti ci sono.